Auk, ce stai? Auk, ce sto, sì! E allora iniziamo subito! E benvenuti tutti ragazzoni qui per bentornare sul mio canale che stiamo qui in questo nuovissimo video, raga! Sono in compagnia di MyFratme, ok! Chiamo Evo, vi andiamo a prendere, scus, scus! E siamo qui quest'oggi su operazioni speciali, come avete letto benissimo dal titolo, a provare i tari trickshot. Questa sera qua l'ha già fatto ovviamente Vrat e ovviamente gli ho chiesto il consenso perché comunque mi sembra giusto chiedere le cose di cui idea non ne sono tue e la sua risposta è stata questa. Cosa? 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 Noi pensiamo che ci sia solo una mappa per fare trick, ovvero questo qua, Sniper Feed, che serve tipo Subbase. Vi chiedo solo di rivelazare 150 like per questo video e ascoltate bene. Se invece entro mezzanotte riusciamo a superare i 200, la prossima volta la coppia Oc-Evo la faranno su operazioni speciali di Mv3, che ovviamente si possono fare cose anche migliori. E niente, vi ho detto tutto, iniziamo subito. Allora, è totalmente diverso, cazzo, dall'online perché, come vedete, raga, guardate che schifo, guardate come si muove. Cioè, sembra che le bracci stiano andando via. Tanto il Predator me lo prendo io, Manuel. C'è un trick? Eh, non lo so. No, non si può fare, cazzo. Oh, ma guarda quanto è dritto il colpo quando spari. Eh, la cazzata ha detto. Porco. Allora, a destra, raga, c'è scritto hostiles, perché io c'ho gioco in inglese, sarebbero tipo i nemici. Porca puttana. Quindi, diamo semplicemente... Ok, ne manca uno. Basta, 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 basta. Ok, là, bravissimo. E mi piglio le clamor. Le altre sono sotto, se vuoi. Eh, il punto, Manuel, che se ci buttiamo troppo in là, miseriaccia. Ancora! Sono troppo ormai, sono troppo... Cazzo. Non mi sono accorto del tipo che ero lì in fondo. Tu sei proprio down. Abbiamo spiegato praticamente il Predator. Eh, mo come cazzo facciamo? Aspetta, eh. Boom! Ma che sono? Erf, chiudò uno! Vado cazzo, so, ehi! Ma, ma parla un tricchettino. Sono tutto rosso. Grande. Comunque, raga, siccome l'ultima volta che ho caricato è stato il Can You Beat Me, che comunque, come serie, non è che vi dispiaciuto un sacco la prima volta, molto probabilmente YouTube ha una manatura le notifiche a molte persone, anche perché me l'han scritto. Quindi, vi invito a vedere, vi lascerò il link in descrizione del Can You Beat Me 2, perché, raga, è stato un cazzo di video assurdo, dovete per forza guardarlo. Lo chilo io, oh, oddio. Ah! No, granada, granada! Vai via! No! Aspetta! No! Siamo riusciti a farci chillare i momenti a mongoloide. Quante andate sono? Io ho spread out the control. Ok, l'ho ciecato, via, sali, 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 sali come se dovessi scappare dalla pula. È vero, puoi andare anche in fondo, volendo, Manuel. È passato! L'ho ciecato. Last, last! Reaction! Ma, Dio. Ora come minimo muoio. Ma, Manuel! Ah! 1080, eh, vabbè. Sta rincorrendo, Manuel. Eh, vabbè. Come hai fatto a morire? Non lo spieghi. L'ho ciecato, non dovrebbe vedere niente. Sta in modalità a voceglie, aspetta. Perfetto. Ah, Claymore? Tricaracoat 4. Dai, ma già sono rimorto. Paltilo! Manuello, ne immagini che trick ho fatto! È stato! Oddio! Nel video dovevi non vi è forza a guardarlo, ho fatto Claymore, ladder 1080. Che culo! È attaccato! Sì, ma sali qua, che del ladder ti uccidono. Vai tranquillo. Ragazzi, sti cazzi nella distance, però su operazioni speciali è un bordello, aiuta! Manuel, se muori ti ti ho una bottiglia figa di chinotto in testa. Ma sono così all'altro. Visto che di chinotti te te ne intendi. Oh, ma le stunno come le bio? Stunno ma un po'? Eh, non ne ho più. Ma voglio fare trick con di 90. Il casco. Oddio, Manuel. Che si sta muovendo? Deficient! Oddio, che pelo! Cazzo figa! Sono morto, sono morto, sono morto, sono morto, è vero. Manuel, se ti do i primi del giorno. Vero il mio cazzo. Io non sto a provare da vicino, capito? Da qua sotto! Donderes! È un colpo e vado giù. Ah no, sono giù, sono giù, sono giù! Ma fai, 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 fai. Hai tatuo? Ah no, hai sposto il coso, ma porca troia. Porco, via. 25 nemici. Un trope, fai. Sì, sfumateli in carrozza. Finché non c'è anche la clip di Manuel, non si va da nessuna parte, ragazzi, io vi avverto. La clip, adesso. La cagata che stiamo facendo. Ok, lo vedo. Dove sta l'altro? Qua sotto. No, non ci credo. Per lag, guarda, tu mi ha spedito. E mo? Lo hitterò per te. Grande. Cioè, se ovviamente solo te riesci ad andare in quel posto, figa. Oh, sono salito! Sono uscito, sono uscito, sono uscito, sono uscito. Sono morto! Ragazzi ha detto, questo va all'ancorsivo. No, sono morto. È uno morire. Che succeda? Non farti, non farti che scegli dall'altra parte e far giro. Eh, assente, sto correndo come un caino. Come una cazzella. No, stanna mi, stanna mi scappa! Eh, vabbè. Siamo volati. Ma uffa. Use the weapon, catch and establish your claymore if you got and left. Ok, but we need a Google traduttore, thanks. Vabbè un cazzo, dov'è ta' pure io mo? Così perché ovunque vado, io hitterò e dov'ovunque vai tu, fai cacà. Ho fatto il knock! No, se il tau carcola era clamoroso. Rilodnack desertico, il porco dia. Era bellissimo. Il mio barret, Fanoet! E mo? Morimo, pure l'ho detto, cioè per ditte così, no? Oppure per dirte così, guarda. Ecco, tre, due. Che è successo? Connessione ad altri giocatori speciali interrotto per tre secondi. Ma che è successo? Potevano essere pure quattro, no, sti cazzi. I glide, si può fare gli glide? Certo se lo fa. Ma che figata però. Cazzo. Dai, porco. Eh, perché sono stato troppo in là. Volevo fare bungee jumping, mi senti mi dimenticato, che non c'è una corda. Bucgee jumping. L'ho aiutato ma da fermo. Che vuol di da fermo? È che me sono stunnato, quindi ho fatto così e sono rimasto sopra comunque. Mamma mia, sei proprio un cane. Sapete che vi dico? Beccatevi sto predator. Infamito e merda. Guarda quello, guarda come una cazzella. Guarda come volano. Via, 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 via. Eh vabbè, e ti metti davanti? Ma lo fassi attraverso qua, coglione. Ma spero che ti vada attraverso qualcosa, un pezzo di pane. Beccati sto trick allora. Cazzo, ho fatto a non prenderlo? A volte rimango stupito. Di quanto tu sia stronzo. Lost. No, ma non è. Ho colpito mento e saltavo. Via, 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 via. Via, via, via. Oh, io lo faccio sto 720. Lo sto fa? Porca mignotta l'ata dei quattro alatini. Fino ti stai registrando perché se no forse è la volta buona che mi infino una cegnere in golea e accendo una fiamma. Missile aria superficie pronto. A me dice Predator Drone. Mi si è rotto quello che mi vede. Perché siccome raga Hawk ormai non ha tipo da un po', da un sacco di tempo, ha deciso che il disco di MW2 aveva un buco abbastanza carino per i suoi gusti. Sta qua sotto. Sta a fare un'acqua setà. Porca puttana. Ehi, ma puoi sparare a Hawk per favore? Oh, ti ho visto che ritavi, hai giusto. Corri verso, come, corri verso, come, muo, corri corri, corri. Quick revive. Vai, 3 moon. Sempre davanti, cazzo. Mi ancora fa andavo giù, ma stavo giro giro tondo. Manuel, dove cazzo vai? Ma perché si muore da qua? Ma perché si muore da là? Ma c'è la neva, non si deve morire. E niente, ragazzi, Hawk è un coglione, come al solito. Che devo dire? Vuole fare il suicide oppure su operazioni speciali, che... Boh. Ma è qualcosa da diritto di scolpa, brutto stronzo? Vabbè, io mi sono divertito. Lascia sta capi, nemmo finito, o male, però... Ragazzi, vi invito a lasciare 150 miliardi per questo video. Spero vivamente che vi sia piaciuto. E se superiamo i 200 dentro mezzanotte, lo porteremo anche su MW3. Ovviamente è una serie parallela alla coppia che scoppia. Io ringrazio ancora Hawk per essere stato qui con noi. Bella perfetta Gianni Morandi. Grazie, Hawk. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao, belli. Puoi salutare ogni volta che non saluti? Eh, vabbè. Bella. Sio di puttana.